Benvenuti ragazzi sono i Gisius e io sono Alex. Bene sempre intro più nuove più divertenti più fantastiche e oggi siamo su The Witch Out weeehee quindi What the fuck l'ultima volta abbiamo trovato un libro della morte io mi ricordo che aveva detto che qua mancava un libro se vi ricordate dove? Qua ha detto manca un libro qua Interessante una piccola libreria un libro è mancante tipo dice quindi se noi infiliamo No Figliamo un cazzo Ah si Hai sentito qualcosa che veniva fuori dal vetro Merda 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 lo sapreva Ma che cazzo Ma ha mangiato la testa Si Si perché me l'aspettavo io Scappa Ma non posso scappare Sono che non è vicino Ah davvero Ma cazzo What Bastardo È intelligente però Ma me l'aspettavo Questa è una bastardata Forse devi aspettarla di più In modo che No l'ho letto Oddio Oddio E sono morto ti pareva Perché si gratta gli occhi È perché il libro della morte E quindi E lo leggi e muore Ok Ok E Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Questa adesso la prendiamo Però la rimettiamo a posto Si E lui non se ne accorge perché non distingue i colori Cosa? Forse no, forse se ne accorge No, invece no La farfalla è scivolata a videre le mie mani Dov'è il gatto? Non lo so Non c'è più il gatto No Cazzo Questo potrebbe significare un problema Cos'è come? Io Non spostarti, smettila Di farci prendere il paventi Certo 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 Mi han tirato un coltello Perché Tipo il senso di tutto ciò Quindi basta schivarlo In teoria Quanti Quanti te ne tirano Cosa? Quanti me ne tirano? Tanti Cos'è? Mario Pro si che devi scrivarle Piaggio di cortelli Paglia di fuoco Basta Ho schivato tutto Sono un pro Il gatto Io Io Vai da voi Questa è la casa Comunque questa è la casa della strega Lo sapevi giusto? Giusto 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 un corno Bene Ah c'è una porta Una rana Perché? Oddio ti amo Shake hand Non cosa vuol dire? Cosa te la sei mangiata? Non le sono messe in tasca Ti piacciono le rane? Ma evidentemente Più che altro Alle rane piaccio io Evidentemente C'è una lima Mi spenziona E' più sottile di una tua gamba Potrebbe rompersi ogni secondo sotto il tuo peso No Non lo attraverso La rana Vai la rana E lei capisce che deve attraversare Oddio Ha anche attivato la leva Fa tutto Torna anche da me Torna anche da me Yeah Oh Cos'è? Cos'è? Ho schivato quindi La porta c'è aperta Queste sono due stanze Sì Ah forse devo C'è una rana Forse devo rimettere a posto le stanze Cioè? E vedi che sono più o meno uguali Vediamo cosa dice per te Sì Fai un'immagine agli specchi Quindi devi mettere la rana lì Allora Quindi mettiamo la rana qui Sì Ok la pianta c'è Poi c'è un piatto Vai Non cazzo la trovo Un pezzo di Fra Qua c'è No Riarrangia Oddio Devo farlo Ah ok Cos'è giusto? No non è giusto Adesso è giusto Sì 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 è giusto Poi c'è un quadro Qua c'è un quadro PUSH PUSH Ah cambio Ok così è giusto Oddio No non è giusto Sì è girato Ah è vero Come lo specchio Ah è vero è vero è vero Qua c'è qualcosa Tic clic Ah ok Un pezzo di torto Ma devo mettere un pezzo di torto dall'altra parte forse Ah Ok ci manca la rosa La rosa La rosa La rosa No Provo andare nella stanza di là Ma questo cos'è vero? Ah è un quadro di rosa Ah Cinque rosa Che dimmi Sei rosa Ah quindi la prendiamo E la mettiamo dall'altra parte Interessante Bene E ha fatto tutto Quindi E' speculare Cosa manca Me C'è piatto Te l'hai sbagliato Magari posso proseguire adesso Forse è il biglietto dall'altra parte Dov'è il biglietto? E non c'è il biglietto dall'altra parte, non so se... Ti vedo? Eh sai che è il biglietto sulla parete? Eh no ma che senso... Vediamo se esco e rientro, magari mi cambia qualcosa I vasi sono cambiati, allora devo spostare questo qua per forza Questo qua lo devo spostare Affixed E' fissato? Vabbè ragazzi, non riusciamo ad andare avanti, questo enigma Quindi lo faremo la prossima volta Se avete suggerimenti, iscriveteci lì Quindi se avete suggerimenti, iscriveteci lì Iscrivetevi e noi ci vediamo un prossimo video Bella ragazza Ah Geo cosa ci fai il mio camerino, mi sto ancora preparando Cosa ci faccio? Non ti sei dimenticata qualcosa Sonia? Oh il post per gli studio, scusami Ma tutto bene, devi essere te ne dimenticata Mi stai prendendo in giro? No, beh forse solo un po' Ah 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 Hai proprio colpito nel segno Sono lieto che possiamo parlare tra noi con questa onestà Sì anch'io Ok, prima che te lo scordi, ecco il pass studios che vi serve Geo riceve il pass studios Mostralo, guarda il mitra dell'ingresso e dovrebbe farti entrare Mentre vai, io effettuo il cambio Il cambio? Sì cambio inteso come cambio d'abiti Oh figo, ok, allora credo che ci vediamo No, no No, no